Nuovamente insieme amici delle auto della settimana, dalla grande nuova sede di Carmagnola a Queen Car uguale paradiso del risparmio. Questo è un mese speciale in Queen Car perché continua la super campagna rottamazione con risparmi che arrivano fino a 5.000 euro. Oltre 550 automobili, nuove chilometri zero, aziendali ed occasioni, in pronta consegna. Massimiliano. Sì, ciao a tutti, ben ritrovati. Siamo qui a Carmagnola in via Purino numero 6 per tantissime offerte. La cosa importante è acquistare oggi alla Queen Car si può, ma si può pagare anche dopo le vacanze e con sconti che arrivano fino a 5.000 euro grazie alla rottamazione e l'offerta Evergreen. Insomma, le automobili da Queen Car si acquistano con piccoli canoni mensili. Scegliete l'automobile, scegliete la rata e iniziate a pagare dopo le vacanze. Andiamo con le grandi offerte targate Queen Car uguale paradiso del risparmio. Fiat Panda 1000 ibrida 70 cavalli in pronta consegna. Vi ricordiamo la soluzione Evergreen, acquistare oggi e pagare dopo le vacanze con un canone che parte da 99 euro al mese. Si può inserire anche l'assicurazione, furti, incendio, casco e anche la manutenzione nel vostro canone. Fiat Panda GPL, uno sconto che arriva fino a 4.000 euro. Grazie alla soluzione Evergreen il canone parte da 129 euro al mese. Lancia Ypsilon 1000 ibrida 1002 benzina GPL in pronta consegna. Ne abbassa aspettare 4-5 mesi per avere la vostra vettura. Queen Car ne ha diversi in pronta consegna. Grazie alla soluzione Evergreen il canone parte da 139 euro al mese. Vuoi provare l'esperienza dell'elettrico con Queen Car e Fiat 500 Full Electric? Oggi è possibile. Rigorosamente in pronta consegna, diversi allestimenti, pensa 500 Full Electric. Grazie all'operazione Evergreen Queen Car può essere tua a partire da soltanto 199 euro al mese. Fiat 500X, 1000 benzina, 1300 multijet, 1600 turbodiesel aziendale, nuova chilometro zero, le abbiamo tutte in pronta consegna. Sempre grazie all'offerta Evergreen il canone parte da 179 euro al mese. Fiat tipo Cross, in pronta consegna, motorizzazione ibrida al 1500 da 130 cavalli, cambio automatico, uno sconto grazie alla rottamazione che arriva fino a 5000 euro e il canone parte da 279 euro al mese. Guardate quanto spazio per tutti i bagagli e per i vostri utensili, per i vostri attrezzi. Guardate quanto spazio all'interno dell'abitacolo. L'avete riconosciuto? È il nuovo Fiat Doblò elettrico. Zero blocchi del traffico, circolate sempre e ovunque, risparmiate tantissimo denaro, ma soprattutto fate bene all'ambiente. Queen Car ce l'ha in pronta consegna a partire da soltanto 329 euro al mese. Fiat 500, motorizzazione ibrida, GPL, sempre pronta consegna, sia nuova aziendale e chilometro zero, con un risparmio che arriva fino a 5000 euro e il canone che parte da 139 euro al mese. E se cerchiamo spazio per le nostre vacanze, non può mancare la Fiat Tipo, Station Vego, motorizzazione ibrida o turbodiesel, 1600, 120 cavalli, aziendale con pochi chilometri, e il canone è anche qui, comodissimo perché parte da 159 euro al mese e inizia a pagare dopo le vacanze. 129 euro al mese può essere vostra la Mitsubishi Speastar, 1200 benzina, 1200 benzina GPL anche di diverse colorazioni, con 5 anni di garanzia e vi ricordo sempre la prima rata dopo le vacanze. 9000 euro di risparmio grazie a incentivi statali, grazie all'offerta Evergreen, la Eclipse nuova, PEV, la portate via con un canone da 399 euro al mese, venitela a vedere e provare su strada. Non mancano le Alfa Stelvio 2.2 turbodiesel, cambio automatico, aziendale con pochissimi chilometri, il canone da 349 euro al mese. Fino a 4000 euro di risparmio sul Compass 1.6 turbodiesel aziendale, anche qui pochissimi chilometri, e il canone da 259 euro al mese. Hyundai Tucson 1.6 turbodiesel aziendale, il canone parte da 329 euro al mese. Toyota Yaris 1.0 benzina del 2022, 20.000 chilometri, il canone 169 euro al mese. Introvabile sul mercato la Fiat 500L a chilometro 0, 1.4 benzina, disponibile anche il GPL, con un canone da 199 euro al mese. Peugeot 208, 1.2 benzina, disponibile anche qua, GPL, con un canone da 139 euro al mese. Opel Mokka turbodiesel, sempre aziendale, con un canone da 199 euro al mese. Peugeot 3008, seminuovo del 2022, con 20.000 chilometri, allestimento Allure, cambio automatico, in 1.5 turbodiesel, il canone parte da 299 euro al mese. Opel Corsa 1.4 benzina aziendale, vi ricordiamo sempre la garanzia, sempre l'assicurazione nel vostro canone, che parte da 139 euro al mese. Nissan Qashqai 1.5 turbodiesel, 1.3 benzina col cambio automatico, il canone è di 189 euro al mese. Purtroppo il tempo a nostra disposizione non è mai abbastanza per mostrarvi tutte le automobili presenti e tutte le grandi offerte. Quindi un consiglio, Massimiliano, che diamo agli amici che sono a casa è, se non hanno visto, l'automobile che stanno cercando di fare un salto anche qui nella sede di Carmagnola. Sì, certamente, oltre 500 autovetture in pronta consegna, la cercate benzina, GPL, full elettrica, le trovate tutte qua alla Queen Car, per tempo non siamo riusciti a farle vedere, ma cosa aspettate? Venite qui, ritirate oggi, iniziate a pagare dopo le vacanze. E con l'operazione Evergreen, vi ricordo che scegliete l'auto, scegliete la rata e iniziate a pagare dopo le vacanze. Quindi cosa desiderate di più? Carmagnola, ricordiamo l'indirizzo? Via Porino numero 6, qui a Carmagnola, vi ricordo anche le altre nostre sedie a Torino, Corso Grossetto 18, Moncalieri, Corso Savona numero 10 e anche a Pianezza, in via Susa 52. Grazie Massimiliano, grazie a voi tutti per l'attenzione e vi aspettiamo in una delle sedi Queen Car uguale Paradiso del Risparmio.